Buon pomeriggio dalla sede dell'Associazione dell'Arba Nazionale dell'Auronatica, la sede di Caserta, e siamo con la presentatrice dell'evento. Senti Maria, che emozione hai a presentare questo evento? Buonasera a tutti, sono veramente poca cosa rispetto a questo evento che andrò a presentare, perché la musica secondo me rappresenta veramente qualcosa di grande, e quindi qualsiasi sforzo si possa fare intorno, alla fine la parola resta sempre alla musica. Emozionata Maria, senti un'altra domandina subito subito, per te quanto è importante la musica? Molto, 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 io vabbè, adesso ho cercato di inculcare questa cosa ai miei figli e quindi penso che sia veramente un mondo da conoscere. Senti, è da molto tempo che fai la presentatrice di questi eventi così importanti? No, io di questa cosa, vabbè, ho fatto qualcosa con i bambini del catechismo, perché ho fatto la catechista per un po' di anni. Poi devo ringraziare Nello, invece che mi ha coinvolto in Nello Martucci, in questa esperienza. Diciamo che sono partita con i bambini quando fanno il saggio di fine anno, e invece adesso sono stata coinvolta, anche grazie al generale Elia Rubino, in questo evento molto più importante. Facciamo un saluto ai lettori e alle elettrici di Vivi Casagiove, Maria, invitandoli all'evento di sabato. Sì, l'invito è aperto a tutti e naturalmente sicuramente non avrete tempo perso, perché veramente la musica vi riempirà il cuore, uscirete molto più pieni. Ringraziamo Maria per la sua concessione all'intervista. Ringraziamo Maria.